Ma chi ti garantisce che tutto quello che dico è vero? Beh, se sei qui nella zona, puoi alzare il telefono o andare in qualsiasi locale, bar o attività e ci conoscono tutti perché siamo presenti da oltre 45 anni con la stessa partita IVA. Io ho da 30 anni, ma mio babbo è da 45. Se invece non sei della zona, potresti guardare le recensioni su Facebook. C'è lo mio cognome, potrebbe esserci un tuo amico o l'amico del tuo amico. Gli puoi mandare un messaggio e chiedere delle referenze. Consiglio molto Facebook perché Facebook c'è appunto nome e cognome. Non è come TripAdvisor che ormai sono tutte finte per la recensione.